Signori gentilissimi non sono professore ma non occorre un titolo per insegnar l'amore anch'io perciò desidero studiare la questione signori miei seguitemi con tutta l'attenzione in questo caso parlo del bacio solamente di quello puro semplice di quello folle ardente or definire semplice il bacio ricordate l'unione di due anime che sono innamorate che sono innamorate che sono innamorate secondo me la pensano nel modo più banale coloro che lo stimano un atto materiale perché se due si baciano sapete che succede un fatto importantissimo di cui nessun sa vede intanto che si toccano le bocche strettamente le anime si uniscono appassionatamente or definire semplice il bacio ricordate l'unione di due anime che sono innamorate che sono innamorate che sono innamorate le vostre mani stringono le mani dell'amata le vostre labbra cercano la bocca profumata il folle bacio alzandosi dall'anima rapita una dolcezza tremula di fondo per la vita però se differiscono i modi di baciare i risultati è logico dovranno pur cambiare per definire semplice il bacio ricordate l'unione di due anime che sono innamorate che sono innamorate che sono innamorate